Sorpasso in vetta nel campionato di Serie C Gold Pugliese. Nell'incrocio al vertice di domenica scorsa, infatti, Palacanestro Bolfetta batte Action Now Monopoly e la raggiunge a quota 30 punti, facendosi preferire però per differenza canestri negli scontri diretti. Quello del Palapoli si chiude sul più 9 per i biancorossi di casa, 84 a 75, 24 punti per Staselis, 20 per Bagdonabicius, stesso score di Bosniac, fra i ragazzi di Millina che si inceppano nel terzo periodo. Tempo di agganci anche a 26 punti, dove Lupalecce raggiunge Cussionico dopo la vittoria a Casalinga nel confronto diretto. Tarantini avanti per gran parte del match con Bricis, 23 punti e Longobardi, 21, ma i Salentini si rifanno sotto a suon di triple e mettono la freccia nell'ultimo quarto. Alla fine è 84-81 con 5 uomini in doppia cifra, guidati da Petraitis con 16. Quinta posizione in graduatoria per Vieste, che allunga il momento di Mola New Basket all'Omnisport. Lo scatto iniziale dei baressi è subito rintuzzato dai padroni di casa, che alla fine si impongono per 77-72 con 25 punti di Vranicovic. Fattore campo rispettato pure ad Altamura, dove la Libertas batte, i cestisti caustuni per 66-62, ribaltando nell'ultimo segmento il meno 6 di fine terzo parziale ai gialloblù. Non basta, uno scarponi da 20 punti in coda, balzo in avanti di Basket Francavilla, che supera a domicilio Castellaneta per 76-70 la squadra di Alba. E da subito pimpante, nonostante un Budris da 27 punti, fra gli ospiti menzione per i 17 di Omeragic. Adesso il penultimo posto occupato proprio da Castellaneta è distante solo due lunghezze. si disputerà il 5 marzo, infine l'ultima sfida dell'ottava giornata di ritorno, quella fra Manfredonia e Monteroni.